carissimi amici del canale telegram e youtube dentro la notizia cosa hanno in serbo per noi l'elite del world economic forum quest'oggi metteremo insieme tre tasselli del puzzle che appare sempre più chiaro e vedremo come sono collegate tra loro sì queste tre notizie si incastrano perfettamente come tre pezzi di uno stesso puzzle il disegno finale è veramente disgustoso ma come si dice non tutte le ciambelle escono col buco e in questo caso direi fortunatamente alcuni riusciranno a scampare e ad avere di fronte a sé un futuro meraviglioso a differenza delle diaboliche elite e di chi li ha seguiti a sprofondare nel burrone più orrido e profondo che sia mai esistito la loro totale estinzione partiamo dalla prima notizia a cui prestare molta attenzione venerdì il capo delle nazioni unite antonio gutterres accolito delle nere elite ha pubblicamente avvertito che ci sarà una crisi globale di fame senza precedenti gutterres ha osservato che il conflitto in ucraina esaspera le interruzioni causate da cambiamenti climatici pandemia di coronavirus e disuguaglianza per produrre una crisi della fame globale senza precedenti che già colpisce centinaia di milioni di persone riflettiamo senza precedenti significa mai accaduta o conosciuta prima c'è il rischio reale che nel 2022 vengano dichiarate più carestie ha detto in un video messaggio ai funzionari di dozzine di paesi riuniti a berlino e il 2023 potrebbe essere anche peggio interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di youtube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale telegram dentro la notizia iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 135.000 iscritti divenendo così il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a uscire quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per i bonifici verificate prima la correttezza dell'iban recentemente cambiato per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su youtube e su telegram mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro notizio dal vostro sostegno